Il gabinetto costituito dal radical socialista Ford, ottenuta la maggioranza, l'assemblea è stato presentato all'Elisee. Pinay e Schumann fanno parte di questo ventunesimo governo del dopoguerra. Esso intende ratificare gli accordi di Parigi. Anche Biondetti è arrivato all'ultimo traguardo. Da tre anni era preda di una malattia che non perdona. Ha raggiunto per sempre Nuvolari, che ritroviamo qui con lui nel 48, l'anno della terza vittoria nelle Mille Miglia. La gran corsa di Biondetti in cui aveva raggiunto fin dal 38 la media primato, rimasta per 15 anni imbattuta. 1949 e un'altra Mille Miglia sarà sua. All'audacia che era stato il suo stile di gioventù congiungeva la tecnica di stradista. Posto di controllo a Roma e Biondetti tocca come per un presentimento quel labbro in cui doveva manifestarsi il primo sintomo del suo terribile male. All'arrivo balzava gioioso dal suo posto di vincitore. Ora ha terminato la sua corsa nel mondo. Ragazza pensosa si intitola questo ritratto di giovane albanese. In gran parte esotiche le ispirazioni di Giorgio Prandi. Da 25 anni si è attrezzato la macchina per andare a raggiungere i suoi motivi. Adesso preferisce tenersi nei dintorni di Bergamo. Ma anche nei più lontani e diversi paesi tutto si svolgeva come qui. L'assistente e domestico estrae dal ripostiglio caballetto e tela e mentre il maestro pregusta le prime pennellate va a disporli nel punto prescelto. All'aperto nasce la favola delle linee e dei colori. Dal chiuso della macchina come da una scatola sorpresa esce una cucina economica. Il quadro è a buon punto quando risotto e bistecca sono cotti a puntino. Per la siesta il domestico preferisce la quiete degli appartamenti di servizio. Pubblico internazionale alla fiesta di Barcellona. Ciamaco lavora il toro volteggiando con la cappa. Ma un passaggio lo mette in posizione pericolosa. Per difendersi non gli rimane che prendere il toro per le corna. La sua quadriglia lo libera. Animato dagli applausi egli rinnova più audacemente la giostra. Questa volta l'animale lo colpirà atterrandolo. La quadriglia vorrebbe portarlo al posto di soccorso. Ma Ciamaco si svincola con un balzo. Emozioni nelle gradinate. Il matador configlia la spada. Il pubblico gli aggiudica le orecchie del toro.